Dai! Esagerata, la Fiesta è a 100 metri di salita Sì, in effetti non è lunghissima A piedi o in bici l'importante è arrivare sul piazzale qui del Castello di Udine perché come vedi la vista è meravigliosa sia sulla pianura sia sulla cordillera montana Guarda invece la città vecchia, quella che si vede a sinistra Questa sì, hai la vista su tutta la città qui c'è il Tempio Sario e guarda un po', ci sono le frecce tricolori che si allenano Ciao!